Maria Lucia Revisoree Qual è la prima immagine che vi viene in mente se io vi dico interazione uomo-robot? Come vi immaginate un robot interattivo? Scommetto che la maggior parte di noi pensa a qualcosa del genere Un robot che vive con noi, un robot che ci aiuta Un robot che porta fuori il cane, che magari accompagna i figli a scuola, che fa la spesa Insomma, il tipico robot che la tv, le serie tv, la fantascienza Ci hanno insegnato ad amare Ma è questa la nostra realtà di tutti i giorni? Direi di no, purtroppo Infatti, se andiamo a pensare qual è la cosa più vicina a un robot che troviamo nelle nostre case oggi È questa Eh sì, è un robot da cucina Non lo definirei proprio robot In realtà è più un elettrodomestico Non troppo dissimile da una lavatrice O forse una lavastoviglie Insomma, quando dobbiamo interagire con un robot da cucina In realtà dobbiamo usarlo Siamo noi che dobbiamo imparare il suo linguaggio E utilizzarne le funzionalità Questo è il robot da cucina che noi vorremmo Un robot abbastanza intelligente Da sbrigarsela ai fornelli da solo Ma che allo stesso tempo Possa condividere con me la cucina Sto cucinando io? Beh, posso aspettarmi che mi passi l'utensile giusto al momento giusto Che mi aiuti in pratica Senza grosse difficoltà Bene Come è messa l'industria robotica Nel darci quello che desideriamo In termini di robot Ossia, dei robot che siano abbastanza intelligenti Da cavarsela da soli Ma che allo stesso tempo Siano molto bravi a interagire con noi Beh, non si può negare Che l'industria robotica abbia fatto enormi passi avanti Pensiamo ad alcuni ambiti Come l'industria elettronica O l'industria automobilistica Ebbene, ci sono ampie parti di lavoro Che sono completamente demandate ai robot Cosa vuol dire? Che ci sono robot abbastanza intelligenti Da cavarsela da soli Nel realizzare tipicamente le parti più difficili Pericolose, ripetitive del lavoro Bene Quindi lato intelligenza possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti Ma lato interazione? Vorrei fare un piccolo gioco con voi Vorrei che provaste a guardare nella figura alle mie spalle Se riuscite a trovare dove sono gli operai umani Per alzata di mano Quanti di voi li hanno visti? Bravi Non era un compito semplicissimo Perché in realtà Ora come ora Il problema dell'interazione non è del tutto risolto Cosa vuol dire? Che abbiamo i robot che fanno il loro lavoro E abbiamo gli operai umani che fanno il loro lavoro Il problema è che non si sfrutta proprio l'interazione come la intendiamo noi Non c'è un robot che lavora con l'essere umano Perché? Perché l'interazione uomo-macchina a volte è difficile Pensiamo alla nostra esperienza personale Quanto tempo abbiamo perso sui manuali di istruzioni Per usare una lavatrice? E io scommetto con voi Che voi come me Non sapete ancora utilizzare tutte le funzionalità del vostro telefonino O del vostro forno a microonde Ecco, se è così difficile Rapportarsi ed utilizzare Uno strumento relativamente semplice come un forno Pensate di scalare questa difficoltà All'uso di un robot così complesso Come quello che noi sogniamo Impossibile Ed è qui che viene il sogno, il desiderio Che voglio condividere con voi oggi Io vorrei che i robot del futuro Invece di essere l'ennesimo tool L'ennesimo strumento L'ennesimo elettrodomestico Da imparare ad utilizzare Diventino dei veri e propri collaboratori Bene, mi direte voi Facile? No, non è facile Lo so, è stato il sogno di molti Non solo ricercatori Anche scrittori di fantascienza Però Io oggi voglio condividere con voi Un'ispirazione che penso possa essere nuova Quella che ritengo possa essere una chiave Per capire meglio Come realizzare questa interazione naturale E l'ho portata oggi con me sul palco Ed è qui O anche qui Work in progress Si tratta della mia bimba Nascerà fra circa dieci giorni Grazie Al di là dell'amore di mamma Come pensa una cosa del genere Un bambino così piccolo Essere la chiave per risolvere questo problema annoso Perché i bambini Anche se sembrano degli esseri semplici In realtà sono delle macchine per l'interazione Lo sapete che un bambino Appena nato È in grado di capire Se lo state guardando negli occhi O se invece state guardando altrove E A poche ore dalla nascita È anche in grado di stabilire Se ciò che si muove di fronte a lui Si sta muovendo di moto biologico Cioè un agente Una persona O un oggetto Meno interessante Cosa vuol dire Che noi nasciamo predisposti Per interagire con le altre persone E questa capacità cresce con l'età Velocissimamente Pensate Prima del primo anno di età Quindi prima ancora che un bambino impari a parlare È già bravissimo a collaborare A collaborare con gli altri bambini Con noi adulti A competere Insomma È già bravissimo A interagire Senza bisogno di parole E questa capacità di interagire Senza bisogno di linguaggio È una cosa che ci portiamo Anche nell'età adulta È vero Quando parliamo di collaborare La prima cosa che ci viene in mente È la parola Ma pensiamo a una collaborazione che funziona Il meccanico con il suo aiutante Se ci pensate Quando sono ben assemblati Sono perfettamente in grado Di interagire e di collaborare Senza bisogno di tanti discorsi Un gesto Un'occhiata È più che sufficiente E l'aiutante passa L'utensile giusto Al momento giusto Perché? Perché la nostra comunicazione Non è fatta di parole Non soltanto Ma di una miriade Di segnali E questi segnali Sono non verbali E legati alle nostre azioni A come muovo le mani A come mi muovo nello spazio A come muovo gli occhi Ma questa non è un'idea nuova C'era già arrivato Darwin Parecchio tempo fa Cosa diceva? Diceva che quando si tratta Di trasmettere O di capire Le intenzioni E le emozioni Di qualcun altro Ebbene Un'azione Può valere Mille immagini Mille parole E La cosa interessante Per me È che Mentre tra un uomo E una macchina La cosa difficile È stabilire Una comunicazione Per noi uomini Comunicare è così facile Che la cosa difficile È limitare La comunicazione Vi faccio un esempio Pensate a un tavolo Di giocatori di poker Notate nulla di strano Nell'immagine alle mie spalle? Questi bei tipi Non stanno certo Indossando gli occhiali da sole Per proteggersi Dalle luci al neon Della sala Stanno cercando Di proteggersi Dalla comunicazione implicita Sanno benissimo Che basterebbe Un'occhiata troppo veloce Un tremolio nella mano Nel raggiungere Il mazzo di carte E tutti gli altri Sarebbero informati Del loro stato d'animo Delle loro emozioni In quel momento Di quanto è buono Il mazzo di carte La mano di carte Che hanno Che stanno giocando E ovviamente Qualcosa che non vogliono Bene Questa comunicazione Fortissima Naturale Semplice Assolutamente Non faticosa Questa È quella che io vorrei Sogno Per me Che è il mio robot Bene Mi direte La strada Allora non è così difficile Tu hai già un esempio Che vuoi copiare Studialo Mettilo sul tuo robot Che è a posto così Ciao ma Per studiare Qualsiasi fenomeno Fisico Sociale È molto importante Poterlo controllare Se io lo posso controllare Allora posso creare Degli stimoli Ripetibili E vedere Modificandoli L'effetto che hanno A questo punto Li posso modellare Capire Quantitativamente E allora sì Metterli sul mio robot Ma Come vi dicevo Noi uomini Non siamo bravi A controllare La comunicazione Implicita Pensateci Anche gli attori O i politici Cioè persone che sanno benissimo Quanto sia importante Controllare la comunicazione Talvolta non ce la fanno E sentono Una spinta Insostenibile A comunicare qualcosa Che forse Non avrebbero dovuto comunicare Quindi noi non abbiamo Il controllo Completo Su questi meccanismi Perché sono inconsci In grande parte Come fare allora A studiarli? Ecco qui la mia proposta Utilizziamo i robot Perché? Perché il robot Prima ancora Di diventare Il compagno O meglio dire Il collaboratore Che tutti noi sogniamo Può esserci già molto utile Come strumento Di indagine Perché il robot Può interagire con noi Possiamo giocare Insieme sul touchscreen Ad esempio Ma è un robot Possiamo controllare Esattamente In maniera ripetibile Come si muove Come muove le mani Come muove gli occhi E a quel punto Possiamo effettivamente Misurare Qual è l'impatto Di questi comportamenti Sulla persona Che gioca con lui Questa è la strategia Che io vi propongo oggi Per cercare di capire Come noi Esseri umani Riusciamo a trasformare Ogni nostra azione In una forma Di comunicazione Perché dico questo? Bene Vi faccio un esempio banale Lì c'è un frigo Io vado dal frigo Apro il frigo Tiro fuori il cartone Del latte E ve lo passo Molto semplice Azione banale Con uno scopo Molto chiaro Passarvi il cartone Del latte Bene Nell'esecuzione Di questa azione Io senza pensarci Vi ho rivelato Anche un'informazione Voi sapete subito Dirmi Se il cartone Del latte È pieno O vuoto È una cosa Semplicissima Però Attraverso Questa azione Io vi ho anche Comunicato qualcosa Che altrimenti Per voi Sarebbe stato Del tutto Invisibile Ed è questo Passaggio segreto Di informazioni Secondo me Quello che rende La nostra collaborazione Con altre persone Così immediata Semplice Per cui Quello che sto cercando Di fare È di vedere Se riusciamo a rendere Anche i robot Dei veri e propri Comunicatori Con le loro azioni E quindi Ad esempio Abbiamo cercato Di rendere Questo robot Umanoide In grado Non solo Di svolgere azioni Utili Come Prendere una pallina Cioè Prendere degli oggetti Oppure Passarci Degli oggetti Ma allo stesso tempo Abbiamo studiato Dove Nella sua azione Si nascondeva L'informazione E adesso Quando il robot Ci passa un oggetto Noi capiamo Magicamente Anche che peso Ha E quindi Siamo pronti A riceverlo Bene Ma questa è solo Una faccia Della medaglia Perché? Perché la comunicazione Di per sé È bidirezionale Non ci basta Comunicare Quando noi ci muoviamo Noi vogliamo Che il robot Capisca anche noi Che ci muoviamo Deve essere Anche un lettore Allora Abbiamo cercato Di modellare Anche questa capacità La capacità Di leggere Le nostre azioni E abbiamo deciso Di partire Dagli occhi Perché gli occhi? Beh si dice spesso Gli occhi sono Lo specchio dell'anima La porta dell'anima Ed è effettivamente vero Io muovo gli occhi Per guardarmi intorno Ma se voi guardate Dove sto guardando Capite subito Dove è rivolta La mia attenzione Ecco Dotando il robot Di questa capacità L'abbiamo reso Un collaboratore Vi faccio vedere Un piccolo esempio In questo piccolo video Ci siamo Io E il robot Che stiamo cercando Di aiutare Un nostro amico A montare Una pila di cubetti Come vedete In ogni istante Siamo in grado Di capire Sia io Sia il robot Se è il mio turno O il suo E quale dei due cubetti Che abbiamo in mano Dobbiamo passare Al nostro amico Bene In questo caso Siamo stati Dei buoni collaboratori Vi rivelo però Un piccolo Dietro le quinte In questo video Il robot Non capiva Un H D'inglese Zero E non guardava Nemmeno Le mani Del nostro amico Niente Lui monitorava Soltanto I movimenti Dei suoi occhi E nonostante questo È riuscito A rispondere Al volo Alle sue esigenze E diventare Un vero e proprio Collaboratore Bene Mi rendo conto Questi sono Solo piccoli passi Però secondo me Sono piccoli passi Nella giusta direzione Nel tentativo Di rendere L'interazione Con i robot Naturale Un po' Quel tipo Di interazione Che il cinema Ci ha da sempre Fatto sognare Però il cinema Ci ha sempre fregato Ha usato Scorciatoie Cosa ha fatto Ha preso Gusci robotici E ci ha infilato Dentro persone umane Trent'anni fa Come due anni fa Ecco Io vi propongo Di fare Esattamente L'opposto Ossia di prendere Un robot E metterlo Nell'interazione Perché solo così Possiamo studiare In maniera Quantitativa Come avviene Questa Incredibile Naturale Collaborazione Ed è così Che io spero Che si realizzi Il mio desiderio E che cioè Nel prossimo futuro In ciascuna Delle nostre case Ci sia un robot Che non sia L'ennesimo Elettrodomestico Ma un vero e proprio Collaboratore Vi ringrazio Grazie 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 Grazie